Io non mi aspetto assolutamente a niente, prendo quello che c'è, ho sempre detto che non cerchiamo mai scusanti e mai attenuanti, è normale che i campionati fatti così sono difficili da interpretare e quindi noi dobbiamo soltanto rimborcarci le maniche, contare su quelli che siamo e non siamo tantissimi perché la rosa è abbastanza corta, contavamo di recuperare Pedicone, invece Pedicone attualmente sta a casa sua perché sta ancora curandosi e oltretutto in questa settimana abbiamo avuto problemini con Cultraro, Buffa, Musso, Sant'Arpia e Olivera, Buffa non sarà sicuramente disponibile per la prima partita, non so se sulla seconda, Musso ha una brutta influenza per 3-4 giorni e negli ultimi 3-4 giorni non si è mai allenato, Sant'Arpia ha un pestone, ha un ginocchio, penso che sia recuperabile bellissimo come lo stesso Oliveira, Cultraro ha avuto il solido problema alla spalla e speriamo che sia disponibile.